L'arcolaio è uno strumento in legno fornito di una ruota azionata da un pedale che permette la rotazione del rocchetto su cui si avvolge il filo e alle alette che provvedono a distribuirlo regolarmente sul rocchetto stesso. Preparato a mano un pezzetto di filo torcendo le fibre si attacca il capo del filo al rocchetto che girando ne imprime la torsione. Tale torsione insieme al combinato rotare delle alette provoca oltre che la ritorcitura della fibra con la conseguente formazione del filo anche il trascinamento del filo appena fatto che si fa a depositare sul rocchetto. Il pregio del filato è dato dalla sua regolarità quindi oltre che una buona preparazione delle fibre con la cardatura è l'abilità del filatore nel porgere costantemente la giusta quantità di fibre alla torsione che determina la buona riuscita del lavoro. A seconda della velocità si avrà la rottura del filo o la sua irregolarità. Fare il filo infatti è creare una relazione far sì che ciascuna fibra si leghi agli altri formando un corpo unico nel rispetto di ciascuna. Si dice infatti nel linguaggio comune fare il filo il filarino per indicare l'inizio di un corteggiamento. Di figli difficili una volta si diceva che davano filo da torcere cioè procuravano difficoltà e richiedevano molto più attenzione di altri ma una buona torsione era quella che poi portava ad avere soddisfazioni migliori. La metafora più comune invece è quella che assimila il filo alla vita, alla vita di ciascuno e ci viene dall'antichità raccontata attraverso i miti. La mitologia ci riporta il racconto delle moire figlie di Zeus e di Temi o secondo altri di Ananche. Alle moire era connessa l'esecuzione dell'esistenza assegnata a ciascuna persona e quindi erano la personificazione del destino ineluttabile. Erano tre. Cloto che filava lo stame della vita, l'achesi che lo svolgeva soffuso e atropo che con lucide cesoie lo recideva inesurabile. La lunghezza dei fili prodotti poteva variare esattamente come quella della vita degli uomini. L'arcolaio lo leghiamo principalmente a due immagini. Una ci viene dal mondo delle fiabe, la bella addormentata nel bosco o nell'originale dei fratelli Grimm, la fiaba di Rosa Spina che si punge all'arcolaio e poi c'è un'immagine bellissima di Gandhi fotografato mentre fila, il cui messaggio è molto importante, è un messaggio di servizio all'umanità, quello di vivere in modo da non ferire gli altri creando un legame indissolubile fra le persone che è ricco, che è povero e fra il capitale e il lavoro perché ogni giro di questa ruota è come se filasse pace, buona volontà e amore.